Ciao, sono Gianluca Bocci e dentro questo scatolone ci sono delle nuove cuffie arrivate fresche fresche dagli Stati Uniti. Non vedo il ruolo di provarle, ma mi raccomando non diciamo alla mamma che ho comprato altre cuffie. Gianlu, sono qua. Lo so che ci sono altre cuffie, sono arrivate in negozio. La dogana l'ho pagata io. Eh sì, è difficile nascondere certe cose alle nostre dolci in metà, ma giustamente iniziamo proprio a parlare della dogana, che è un aspetto molto delicato. Eh sì, effettivamente la dogana quando si acquista da Mass Drop, adesso diventato Drop, c'è da tenerla bene in considerazione, perché è una spada di Damocle pronta a staccarci tanti belli eurelli dal nostro conto corrente. Vi ricordo, ma avevo già fatto un video, lo rimando qui sopra, che c'è questa speranza, ma per essere soltanto una speranza, che Mass Drop, adesso appunto diventata Drop, arrivi in Europa e quindi allontani questo problema della dogana. Ma ad oggi sono pochissimi prodotti disponibili direttamente per l'Europa, il grosso è soltanto per gli Stati Uniti. E quindi, qui stando negli Stati Uniti, c'è il balzello pronto per noi. Però ricordiamolo, cos'è Drop? Innanzitutto, non è un sistema piramidale, non è un sistema Ponzi, è un gruppo d'acquisto. Appunto, raccolgono tanti acquirenti interessati a un prodotto, vorrebbe essere una cuffia, una tastiera, anche un coltellino, e dicono al produttore, ok, tu normalmente lo vendi a questo prezzo, che prezzo ci fai se ne compriamo 100, 200, 300? E cosa succede, come in questo caso, dell'iFi Man? In realtà il prodotto stralusso da 3.000 euro non è che lo vende a 600 euro agli acquirenti di Drop, dice no, io in realtà faccio un prodotto assolutamente nuovo, in modo da non scontentare che ha speso 3.000 euro, dice come a loro lo vendi a 600 e a me lo vendi a 3.000, no, facciamo un prodotto differente, ma in cui in realtà mettiamo le stesse caratteristiche, le stesse tecnologie, e lì il prezzo è davvero molto, molto competitivo, come in questo caso, ma quanto è effettivamente questo risparmio e quanto effettivamente ha inciso la dogana? Andiamo a vederlo insieme con carta e penna. Prima cosa da dire sono quelli che sono i prezzi di riferimento, ovvero i modelli comunemente in mercato, di cui vi lascio il link qui sotto, tipo la E1000, quanto costa? Eh sì, la E1000 costa la bellezza di 3.000 euro, per questo ho scritto nel titolo un risparmio di 2.300 euro, poi ci arriviamo. Ciò a dire però che effettivamente le caratteristiche delle E1000 sono davvero notevole, al di là di materiali utilizzati, tipo vero legno e vera pelle, ma c'è il modello diciamo più avvicinabile che è la Ananda, che è un nome che è stranissimo, che comunque costa 1.000 euro, anche di lei link in descrizione. E invece quanto costa questa edition xx, lei costa soltanto, si fa per dire, 600 dollari. Ok, quindi insomma risparmio notevole, però facciamo un attimino due conti. 600 dollari di per sé corrispondono a 562,32 euro, ovviamente questo ho fatto quando ho fatto l'acquisto, a cui aggiungere la spedizione che sono 11,60, sempre dollari, che sono uguali a 10,87 euro. Ah, ok, però, bam, ecco qui il bel fogliettino che ci dice che sono stati calcolati 118,88 euro di doganale, scusate, che sono il 22%, più ci sono le spese doganali che sono 18,30. Totale 137,18 euro, quindi la dogana. Queste qui sono quindi cuffie, la spedizione e infine la dogana. Totale sono 710,38 euro. Eh sì, effettivamente, se consideriamo questo valore qui e questo valore qui, insomma, il risparmio è notevole, ma anche rispetto alla Nanda, insomma, quei 290 euro li abbiamo risparmiati. Quindi, rovescio della modaglia, sì, se dobbiamo richiedere l'assistenza, va verso gli Stati Uniti, funziona molto bene l'assistenza, ci farò un altro video con un altro prodotto, perché comunque il ritiro è interamente a carico della drop, ma rischiamo che quando ci vengono rinviate andremo a pagare una seconda volta la dogana, quindi c'è da incrociare le dita che non serve la dogana. Mentre per i tempi, scusate, lo scossone che prendevo il calendario di settembre, effettivamente io ho piazzato l'ordine il 14 di settembre, il 15 mi è stata spedita la cuffia e il venerdì 20 mi è arrivata con UPS. Per alcuni prodotti di drop, controllate sempre su quello che è il prodotto, alcuni sono subito disponibili, come in questo caso, quindi tu fai l'ordine, 24 ore dopo ti parte, quasi come se stessi comprando su Amazon. Per altri invece devono raggiungere appunto un numero di persone, quindi c'è un certo tempo di attesa tra quanto voi piazzate l'ordine e quando effettivamente il drop si chiude e inizia la spedizione. Ma penso che dopo, insomma, 5-6 minuti dovete essere curiosi. E l'unboxing? Andiamo a vederlo. Ecco qui lo scatolone, così come mi è arrivato, andiamo ad aprirlo insieme. Non nascondo l'emozione, infatti ho dato una botta con il coltello contro il monitor, che non sarebbe decisamente una bella cosa da fare. Eccole, 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 sì, qui c'è tutta la consegna, sì, il packaging da parte di drop, ok, ed eccole qui. Edition XX Innovative, Innovating Innovating the Art of Listing, quindi andando a fare innovazione sull'arte dell'ascolto con la scritta non drop, leviamo tutto, ma mess drop, quindi effettivamente ancora con la vecchia denominazione, che appunto io preferisco il vecchio nome, mess drop, mess drop, drop, sembra una qualsiasi caduta. Tutto cartone molto semplice, numero di serie 481, fatte e costruite in Vietnam. Ok, edizione XX, risposta in frequenza dagli 8Hz ai 50kHz, ben oltre quelle che sono le capacità delle mie orecchie da 44 anni, 20 ohm di impedenza, 93 decibel, ma insomma ragazzi, io non sto più nella pelle. Ancora un po' di suspense, si vedono le acciaccature, 1, 2, 3, caspita, 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 caspita ragazzi. Sono leggere, sono tanto, tanto leggere. Queste griglie ragazzi fanno porno, passatemi il termine. Si nota la scritta mess drop qui dietro, i5man edition XX, davvero particolare la loro leggerezza, non l'avrei detto. Cosa troviamo? In dotazione un cavo di segnale molto particolare, sembra un tubicino, un catetere, quasi a uso ospedaliero. Acciaccato ragazzi, guardate che piega qui, speriamo bene. Speriamo che all'interno ci sia del rame molto morbido. Carino questo connettore angolato a 90 radii, dorato, con adattatore da 3,5 a 6,5. Da quest'altra parte, senza nessuna scritta particolare, ma dovrebbero essere identificate. Sì, ci sono le scritte, quelle doverose, per il canale destro e il canale sinistro. Cos'altro abbiamo qui sotto? Niente ragazzi, non c'è un manualino, non c'è altro. L'unica cosa da fare è iniziare un signol, bel rodaggio e poi le andiamo a vedere più da vicino. La prima cosa che vi faccio vedere è che quando dichiarano 420 grammi, ragazzi, 422 grammi. Sono davvero onesti ed effettivamente è miracoloso quanto siano leggere queste cuffie. E' anche miracoloso, ma lo faccio vedere tra poco, che nonostante questo piccolo archetto sul mio capuccione XXL, sono davvero comodi. Come incredibilmente comodi, e inizio un pochettino a stringere, eccoli qui, sono questi pad. Vi faccio notare anche qui la scritta MUSTDROP, ogni tanto mi sbaglio, dico MUSTDROP, ma si pronuncia MUSTDROP. E guardate qua, anche se è un po' difficile, è stato fatto bruciando la pelle laser, si legge il numero di serie, vedete, su questa parte qui. Quindi, molto bello questo materiale in pelle, assolutamente non fastidioso perché è calvo. E questi pad misto, tessuto a contatto, pelle sull'esterno, sono di un comfort assoluto. Sì, allora, quando mi sono arrivati un mese fa, quando ho iniziato quindi il rodaggio, in realtà era un po' caldo e quindi si scaldano e che coprono un'area enorme. Ma soltanto per il calore. Se è fresco, se abbiamo l'area condizionata accesa, io le ho portate per 3-4 ore, senza il minimo problema, senza il problema con le stanghette. Stupenda quest'area qui dietro. Un attimo di silenzio. Non so se il microfono riesce a prendere questo suono. Comunque, ci sono queste griglie e prendo un attimo una torcia per farvi capire che queste non sono cuffie aperte di più. Cioè, guardate la trasparenza della luce dietro. Effettivamente, qualche sera fa stavo lavorando a notte fonda e mia figlia con i calzini antiscivolo mi si avvicina e io l'ho sentita. Quindi sono cuffie molto molto aperte e con soundstage appunto ampissimo. Si ha quell'illusione fantastica di non stare ascoltando musica da delle cuffie ma da dei diffusori. Ma qual è la reale, vera particolarità di queste cuffie? È la membrana all'interno che è una Neo Super Nano di AFRAM. Vabbè, NSD. In pratica, le membrane sono realizzate con nanoparticelle permettendo che si deve avere uno spessore di 1 o 2 micron. Ovvero, sono l'80% più sottile di tutta la concorrenza. Ma se volete un riferimento umano letteralmente, 1 o 2 micron corrisponde a 25, tra i 25 e le 50 volte più sottile di quello che è un capello umano. Questo che permette di avere praticamente una velocità di risposta, una resa sonora eccezionale. Ma infatti, per parlare meglio di comfort e di resa sonora, andiamo a mettere il microfono nell'orecchio. Come sempre vi ricordo che sentirete l'audio un po' strano in questa fase perché il microfono è messo all'interno del mio padiglione auricolare per farvi sentire effettivamente un'idea dell'effetto della resa sonora di queste cuffie. Cuffie che, come vi dicevo prima, hanno l'arco superiore stranamente molto piccolo, ma anche sul mio capoccione stanno molto bene e ve lo mostro. Perché? Perché i padiglioni sono davvero enormi, quindi salgono molto in alto e molto in basso, quindi molto in alto sulla testa e molto in basso verso la mandibola. Comfort assolutamente fantastico. I pad che sono comunque sagomati, vedete, a maniera inclinata, qui sono più alti, qui sono più bassi, copiano in una maniera fantastica la forma e il materiale all'interno dovrebbe essere memory foam, insomma sono molto molto comode, ma enormi. Vi faccio fare un rapidissimo confronto visivo con quelle che sono le stacks, che sono altre mie cuffie enormi, vengono chiamate infatti ear speaker, quindi diffusori da mettere sulle orecchie perché sembrano effettivamente dei diffusori, però ragazzi guardate qui dietro, bam, scompaiono. Sono effettivamente i padiglioni più grossi che abbia mai indossato. Una menzione per il cavo, l'avete visto all'inizio, spero di far vedere in questa ripresa in trasparenza com'è il cavetto all'interno è molto molto sottile. Questo ha permesso che nonostante fosse acciaccato all'interno della custodia, cosa sbagliata, carissima I-Fi Man, qui dentro di spazio ce n'è tanto, metti il cavo più largo. Comunque nonostante fosse acciaccato il cavo intatto lavora bene, ma secondo me una migliore sezione e magari un collegamento a masse separate è l'upgrade, il miglioramento esattamente che andrò a fare. E il suono? Beh, è arrivato il momento di passare al nostro classico brano di prova, La Little Kingdom della The Golden Duck Orchestra. Se siete nuovi iscritti sul canale vi rimando qui sopra il video che spiega come scelgo i brani e come ho scelto in particolare questo brano e adesso ascoltiamoci il primo minuto. La Little Kingdom della The Golden Duck Grazie a tutti Eh sì ragazzi suona tanto ma tanto 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 pagelline Prima di affrontare le pagelline però voglio chiedervi appunto facendo riferimento all'intro particolare di questo video Ma qual è il rapporto della vostra famiglia, delle vostre mamme, dei vostri papà, delle vostre mogli, sorelle, amici, coinquilini con la vostra passione con l'audio In particolare scrivetemi nei commenti come vedono i soldi che uno va a buttare, no buttare sbagliato, a investire in questa splendida passione Ma appunto vediamo un po' queste cuffie come vanno, come suono Allora prima cosa, la potenza gli do 9, perché gli do soltanto 9? In realtà spingono sempre bene, sempre forte, la distorsione davvero è invisibile, è impossibile arrivare alla distorsione Ma gli do 9 perché loro dichiarano che sono facilmente pilotabili anche da uno smartphone Bugia, collegato con il mio Samsung S9 Plus con il volume al massimo, il volume scarso Sì hanno un'impedenza dichiarata di 20 ohm ma in realtà visto che anche con il mio amplificatore La manopola devo spingerla bella su, bella su Perché hanno bisogno di un bel po' di corrente per suonare in maniera adeguata Per i bassi gli do un 9 perché il basso sì è corposo e controllato Però gli manca un po' di botta Ho provato delle cuffie tipo le mitiche Spirit che vi rimando qui sopra Che hanno quella botta un pochettino più presente Sui medi 10 ragazzi, siamo a livelli di eccellenza E in gamma alta 10 ragazzi, cioè davvero è impossibile chiedergli qualcosa di più E quando parlo di dettaglio, se ragazzi sono cuffie davvero di ottimo livello Gli do 10, però attenzione potrebbe anche essere un difetto Per me sono di cuffie infatti adatte anche per chi fa monitoraggio C'è davvero tanto tanto dettaglio Però quando arrivo all'eleganza gli do un 9 Gli manca quel pizzico di emozione, quel carattere che la renda particolare Perché suona sì molto molto bene, davvero avete visto una sfilza di 10 Però non ha un qualcosa che quando hai tante cuffie vorresti avere la particolarità Quel qualcosa che te la distingue dalle altre Lei è una cuffia tra quelle eccellenti, tra quelle appunto di fascia alta Ma non ha un carattere così esuberante È molto corretta, molto lineare Se vogliamo forse potrebbe essere un po' noiosa Intendiamoci, è puro godimento Però se penso altre cuffie intorno sopra ai 1000€ Insomma mi verrebbe da preferire altre perché hanno un carattere più particolare Lei è molto molto lineare Ma insomma andiamo invece a vedere in dettaglio cos'è che mi piace Allora innanzitutto è una cuffia unica Questa collaborazione tra MassDrop e Eiffelman Ha ottenuto una cuffia che sì i padiglioni sono gli stessi della Ananda Ma già l'archetto è un altro E il fatto di vedere il numero questo 0481 Che è lo stesso che è riportato sulla scatola Sì ragazzi Sono cuffie in serie numerata E quindi un prodotto particolare Quindi se la nostra passione per le cuffie Non è solo per ascoltare dannatamente bene come qui Ma anche avere un oggetto dannatamente unico Sì, sono pezzi unici Il comfort è una cuffia Grazie a questi suoi padiglioni enormi Con un comfort eccezionale A parte il fatto che i venti scaldano un po' Ma è normalissimo Ma il tessuto all'interno è morbido E con le stanghette le ho portate per tre ore Senza il minimo fastidio Promosse al 100% Terzo punto Siamo su un referto della dottoressa Grazie Arcan Ci siamo capiti E' il suono ragazzi Promosso C'è poco da dirgli Dicevo poco fa Forse anche troppo dettagliato Ma non può essere considerato un difetto Ultima cosa Il prezzo Sì stiamo parlando di 700 euro Ma grazie a Must Drop Adesso Drop Andiamo a risparmiare un bel po' Tenete in considerazione quello che era Dogana Continuo in considerazione che l'assistenza diventa pubblicata per gli Stati Uniti Ma il risparmio c'è E per 700 euro i portati a casa Quanto meno la resa sonora di uno cuffio da 1000 euro In più l'esclusività E secondo me andiamo oltre appunto quello che è il suo vero e proprio valore Tra l'altro vi lascio qui sotto un link Con il quale se vi iscrivete tramite quel link a Must Drop Anzi Drop Avete uno sconto di 10 dollari sul vostro primo ordine Dalmeno 50 dollari E ovviamente se acquistate qualcosa che costa meno di 50 dollari O giusto 50 dollari Anzi Potreste anche andare lisci con la Dogana Ma molto difficile ai Stati Uniti E invece Cos'è che non mi piace? È il cavo Il cavo in dotazione È sottilissimo E viene fornito acciaccatissimo Onestamente dispiace Un po' Seconda cosa che insomma dovete tenerlo in conto È quando si prende un prodotto ai Stati Uniti Ve l'ho fatto vedere chiaramente all'inizio La Dogana e il Likers Bam Va a staccare un 22% più quelle che sono le spese doganali Quindi effettivamente sono state un bel bel investimento Ma io ne sono dannatamente contento Bene ragazzi Vi ringrazio sempre per tutta la pazienza Che vi porta fino in fondo ai miei lunghissimi video Ciao a tutti E al prossimo Ciao a tutti